Partiranno per fine agosto e inizio settembre i lavori di recupero e completamento del chiostro di Sant'Agostino, situato nel cuore del borgo di Mondolfo. Una riqualificazione che consentirà al complesso monumentale di Sant'Agostino di tornare finalmente agli antichi splendori, valorizzando e ampliando così anche l'offerta turistica e culturale del territorio. La presentazione del progetto, svolta lo scorso 16 luglio alla presenza del sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri, accompagnato dall'assessore al turismo Davide Caporaletti e dal consigliere con delega alla cultura Enrico Sora, ha visto come ospite d'onore il prefetto di Pesaro Urbino Tommaso Ricciardi, oltre alla soprintendenza rappresentata dall'architetto Biagio De Martinis, che si occuperà dei lavori. Una giornata molto importante per tutta la comunità di Mondolfo, lavori importanti qui al chiostro di Sant'Agostino, che è uno dei luoghi più belli del nostro territorio e anche più visitato, e interventi fondamentali che vanno nella direzione della sicurezza da un lato, ma anche di migliorare l'immagine del nostro centro storico. Un restyling è quello del chiostro, realizzato grazie alla collaborazione tra il Ministero dell'Interno, il quale ha cofinanziato il progetto con 125 mila euro, ed il comune di Mondolfo, che ha contribuito con altri 30 mila. La somma permetterà l'avvio dei lavori nella storica struttura, già sede dei musei civici e luogo deputato ad iniziative. In particolare, come spiegato dall'architetto De Martinis, il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione dei due lati est e sud del chiostro, armonizzandoli con quello già esistente nel lato nord. Verrà poi ripristinato il paramento murario esterno con il restauro degli scuroni e degli infissi, così come torneranno ad antica bellezza le colonne in pietra, i basamenti ed i capitelli, con il consolidamento degli archi sopra le colonne. La mia presenza qui oggi vuole proprio consacrare questa collaborazione prefettura, ministero interno, FEC, con il comune di Mondolfo. Abbiamo visto la bellezza di questo chiostro, che sarà interessato dai lavori, abbiamo visto la chiesa di Sant'Agostino, che è meravigliosa anche per i tesori che racchiude, anche questa è chiesa del FEC, e quindi sicuramente il FEC non mancherà di continuare a prestare attenzione a questo enorme tesoro di questa bella cittadina di Mondolfo.